C'è una barola paesana che voleva sempre andare davanti malgrado le difficoltà e per noi di compone un disco è stato abbastanza difficile per via di mesi, ma ci siamo tutti ed è quello che ci ha dato una voce, ha dato un consiglio alla nostra cultura e alla nostra identità e ai messaggi che non vogliamo passare. Grazie a tutti. All'Uraenne, come a Natura, il corso è assai vicino alla zona Natura e soprattutto c'è stato con tutti questi vogli che sono picciati e di noi tutte le betonizzazioni che noi troviamo oggi in Lidurale e noi, le nostre canzone, le nostre canzone danno un fiato, volevamo dare un fiato a quelli che si vattene di maniera oggi inca contro tutto questo aspetto negativo della Corsica. A lettera F, come a Vua, perché avevamo la volontà di s'impegnare con fede e ardore, noi non siamo a società Corsa che noi volevamo, quindi è moderna, tenendo sempre i valori dei nostri antenati. siamo pronti aperti a portare i nostri messaggi di fede, di amore, di libertà e di base attraverso il mondo intero, attraverso in ogni luogo. e questa vua giustamente ci permette di gacciarsi i pensieri e di sempre infugarsi. Scegliere Scegliere Altro non ha di ubrimura, che tante vede in città. Colizzo a Gibrèdesi, rieviù felicità. Dei luci paesi, nasce la prosperità. A chi su mena ne so prese, a scumessa un rio fa. Qui di sta, qui di campà. Quassù in ladia i lantichi, ribomba sempre a tripiera. Nell'i scobli vestiti, fatoni rescherà. A chi su mena ne so prese, a scumessa un rio fa. Qui di sta, qui di campà. Chi su mena ne so prese, a scumessa un rio fa. Perché il giugno è un uso, una tradizione che è presente nel soggetto della corsa, si può dire che l'ha ridimato la vita di corsa durante i segoli e segoli, che l'azia è di a bene, come è di a gioia, è di un lavoro, è tutto che dire. E poi perché con un amico solo, il giallo due annute di musica, un commercio, per fare l'ello e il caffè, di qualcosa che è scolpito, stampato, impresso nella nostra identità. Ci, ci per cultura, perché qui è un gruppo latratio di un gruppo militante culturale. Teniamo e teneremo sempre la stessa andatura che prima. Ossimo Mimicagui, per facile lavorare, arricchisci e non iserrate, ma veramente il scopo di un gruppo latratio e di isomembri è di tramandare questa cultura, di fare l'evoluzione che l'azia qui in Corsica o non ta' esce né d'altro. E come insegnare, perché come puoi essere così impegnati di noi azuccezare la corsa, senza pensare a assumire l'orano per l'abene, e trasmettendo ciò alore per nuove generazioni abene. L'equivoire La lettera A, come amparà, perché apprendere è anche nel nostro concepto di traccio, con l'idea di essere sempre aperto sui altri, a través di nostre diverse ricche musicali, anche in Corso, ma anche all'interno, quando si rinocchiamo, quando si rinocchiamo altre culture, d'altro popolo, come in Decembre, quando si rinocchiamo in Sardegna a un concerto sulla Polyphonie, ciò che ci permette di apprendere l'histoire dei altri e di avanza nella nostra musica, ma anche a tito personale, di apprendere dei altri.